La gente in Lightspeak ricorda Pazzi Guarda Si Ti spacca il culo perchè fa la selecta Selecta Spacca cazzo Il numero uno di DJ Lightspeak Probabilmente vi tira un culo In ogni caso Vi tira un culo pazzesco Spero che non metta in youtube questo Perchè sennò siamo rovinati Selecta!